Siamo impressionati dall'Italia come tutti, sembrava che Prandelli ha fatto un buon lavoro con la squadra adesso e la squadra è una bella mista da giocatori con esperienza e giocatori forse più giovani con un grande atleticismo. Per noi la cosa importante, come Steven ha detto, è trovare la nostra buona forma e giocare come la squadra ha fatto in partita precedente. È molto importante per noi controllare la partita perché noi sappiamo che se l'Italia aveva la possibilità di controllare la partita può essere una nota abbastanza lunga per noi perché la squadra ha tanti giocatori con una bella tecnica.